Sapete immedesimarvi nelle emozioni degli altri? L'empatia è proprio questo. L'abilità di vedere il mondo con gli occhi di chi ti circonda, attraverso pensieri ed emozioni. Anche in una piscina di palline si può trovare l'empatia. L'empatia è il nostro scivolo interiore. Ci permette di connetterci non solo alle vittorie, ma anche nelle sconfitte. Mettersi nei panni degli altri è fondamentale per comprendere le emozioni degli altri.